lì e conquista il titolo internazionale cosa vuoi dire a tutte le persone che stanno seguendo ciao ciao luca grazie dell'intervista e niente mi sono andato così tanto per questo per questo incontro insomma ce l'abbiamo fatta tutti insieme tutta la squadra il tuo prossimo obiettivo niente questo in pratica è stato il mio ultimo mese questo è stato il mese di ritiro invece di ritiro allora ci lasci con un una parola non più che altro una frase per tutti quelli che ti hanno adorato in questo periodo niente vorrei ringraziare tutto e tutti quanti perché senza di loro non avrei potuto mai vincere non solo questo incontro ma tutti gli altri che ho vinto fino a che il pubblico fa fa tantissimo ok grazie gabriel grazie a te luca il team di piccheglia colucci oggi una grande serata un resoconto maestro soddisfatto 7 su 7 caldo volete davanti veramente orgoglio questi ragazzi sono un orgoglio di cerinoma grazie ragazzi grazie a te salino grazie a te salino